... Quando il 5G arriverà a 1-9G, ovviamente sarà necessario possedere un nuovo tutto di cellulare. Creare una tabina di regia al Ministero dei Trasporti su infrastruttura e regolazione di accesso alle città, proprio il posto di Zerberinella, presidente di ANA, l'associazione dei gestori di autotrasporti o di industria, in un nuovo momento. Grazie.